buongiorno ragazzi benvenuti in un nuovo video un video dico io molto interessante per partire dalle basi il titolo l'avete sicuramente già visto il tempo e denaro perché il tempo denaro per farci un po pensare a questo detto che abbiamo sentito tutti o quasi il tempo e denaro cosa vuol dire il tempo denaro qui su google ci dice che è un proverbio inglese che si ripete anche in italia nella traduzione il tempo è moneta più o più spesso il tempo denaro per sottolineare il valore del tempo e la necessità di non perderlo di saperlo sfruttare razionalmente cioè il tempo non sai quanto ne hai quanto ne avrai possibile che tra dieci minuti non ci sia più succede qualcosa e non possa più fare le cose che faccio ora tipo malattia non lo so coma paralisia può succedere di tutto in questa vita non lo sappiamo mai e non lo sapremo mai quindi il nostro tempo è un'incognita quanto ne abbiamo io grazie al cielo fino adesso ho avuto 37 anni non si sa mai quanti ne avrò ancora quindi ha un valore il nostro tempo qual è il valore possiamo stimare il valore del nostro tempo no io non posso sapere quanti anni avrò quindi non potrò mai stimare il mio tempo una cosa molto interessante che il tempo e denaro noi andiamo a lavorare per un tot euro l'ora vediamo salario medio ora in italia salario vediamo in italia salario orario il mediano 11 euro e 20 11 euro e 20 arrotondiamo per poter fare bene i calcoli 10 euro circa l'ora dai cosa più semplice da calcolare allora noi guadagniamo 10 euro l'ora quindi noi tramite questo potremmo dare valore che ci aiuterebbe tantissimo dare valore ai nostri acquisti aiuterebbe veramente tanto cioè ho lo spizio di comprarmi un iphone esempio costa 1200 euro 1000 euro quanto costa un iphone non lo so perché non mi interessa non mi serve vediamo prezzo iphone vediamo così facciamo l'esempio pratico prezzo iphone 1199 1200 euro ok io c'ho lo sfizio di comprarlo perché voglio comprarlo guadagno 1500 quindi io dovrei lavorare per questo iphone seppiglio 11 euro diciamo gli 11 euro dovrei lavorare su 100 105 106 ore 106 ore della mia vita lavorativa che non lavoro 24 ore su 24 non lavoro 8 9 10 dipende se faccio l'estraordinaria dover lavorare 105 ore della mia vita per prendermi lo sfizio di avere un iphone ne vale veramente la pena è giusto prendo il mio tempo dove lo sto buttando solo per essere alla moda esempio e non perché ci abbia un'utilità non perché sono un manager che ha bisogno di un telefono veloce sicuro bla 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 e blu blu quindi non è un investimento è uno sfizio io lavoratore o io che guadagno poco mi prendo questo sfizio questo lusso perché è un lusso averlo comprarlo a sto prezzo qua no io non la penso proprio così cioè io non comprerei mai con 105 ore della mia vita un iphone solo per avere un iphone puoi comprarti l'iphone quando hai una ditta da gestire se sei un businessman e ti serve un cellulare velocissimo che faccia tante cose veloci e ci abbia un processore ultra extra veloce l'ultimo il più veloce perché ti serve perché ti serve per lavoro appunto quindi già allora è un investimento quindi ragazzi un mio consiglio personale date valore al vostro tempo quindi fate qualcosa che ne valga veramente la pena siccome non sappiamo quanto ne abbiamo e quando vai ad acquistare non acquistare impulsivamente ma calcola quanto tempo ci vuole per poter acquistare quel prodotto proviamo a fare così ti serve qualcosa ti passa per la testa qualcosa non sta a comprarlo non sta a comprarlo calcola calcola prima calcola il tuo tempo vale tot il tuo tempo non sai quanto sarà per quello che a me servono i soldi per avere altro tempo libero ho tanti soldi posso comprare il mio tempo io compro il mio tempo non gli altri comprano il mio tempo il mio padrone il mio quello che mi dà lo stipendio la ditta che mi dà lo stipendio l'impresa con cui lavoro sono io stesso che mi compro il mio tempo indietro quindi sarò più libero avrò più tempo per fare le mie cose magari quindi ragazzi è per quello che io voglio investire perché il mio tempo non so quanto sia ed è molto ma molto valoroso io do prezzo al mio tempo quindi ragazzi provate a dare valore al vostro tempo e quando fate gli acquisti pensate in tot ore mi serve un computer ok per cosa per giocare non è un investimento ragazzi quanto costa? 2005 perché lo prendo così voglio giocare quanto quanto piglia al mese? 1250 due mesi di lavoro bravo veramente veramente molto ma molto ma molto intelligente da parte tua questo fa male al tuo portafoglio e alle tue finanze consiglio personale eh non sto dicendo cosa dovete fare così la penso io e così è la mia realtà dei fatti un'altra cosa io adesso magari molti di voi lo sanno che mi seguono mi son preso un apple mac non so manco quanto costa 1300 euro quasi nuovo l'ho preso ok in affitto perché in affitto perché costava di meno in affitto che comprarlo nuovo ok dopo due anni lo devo ridare però per me è meglio così sono assicurato al 100% quindi va benone è il computer che sto usando ora per registrare quindi per me è un investimento non l'ho comprato perché ci voglio giocare non l'ho comprato perché mi serve per fare il figo wow che computer c'ho wow wow che figata no mi serve per poter streammare bene su twitch mi serve per poter fare dei video qui per voi e per youtube quindi è un investimento è veramente un investimento per me sono due cose differenti se l'avessi comprato solo per comprarlo tanto per averlo sarebbe stato un conto se lo compro per pensare che vado avanti con youtube cerco di raggiungere la monetizzazione raggiungere certi obiettivi ed è un investimento praticamente allora è tutta un'altra cosa raga spero che il mio messaggio vi sia entrato chiaramente in testa spero che vi aiuti se vi è piaciuto il video like subscribe tutto quello che volete fate esplodere sto canale campanellina mi raccomando perché vengono sempre fuori nuovi short ogni giorno almeno 4 vi lascio vi ringrazio di essere qui con me date valore per favore il vostro tempo perché non sappiamo mai quanto ne abbiamo o ne avremmo vi lascio tante belle cose ci vediamo nei prossimi video ciao